Ecco il nostro Presidente, che consegna la sciarfa giallorossa al Comandante della Polizia Perigianziaria, che è vicino alla direttrice, la dottore. Anche perché il nostro ministro è allenato a noi, quindi ci siamo proposti subito per un'iniziativa del genere e auguriamo quindi un percorso sicuramente positivo a questi ragazzini, che sia un percorso di una specie scelta. Grazie.